Arrivano i tamponi molecolari salivari in ospedale, ecco la nuova arma contro l'nemico invisibile. Da oggi infatti l'azienda ospedaliera Marche Nord darà inizio a una nuova modalità di screening dei suoi pazienti, più rapida, efficace e meno invasiva dei tamponi nasofaringei. Si tratta di una sorta di lecca-lecca che si tiene in bocca solo un minuto e ha un'attendibilità che può arrivare fino al 98%. Poi il campione viene processato in laboratorio usando gli stessi reagenti e macchinari dei test molecolari classici. Una novità che da un lato mostra la volontà dell'azienda di non abbassare la guardia rispetto al Covid, dall'altro rappresenta la necessità di procedere con il tracciamento ancora lungo, incalzati dall'imprevedibilità delle varianti, sebbene la vaccinazione stia dando comunque una buona mano per contenere il virus. Cambia solo la tecnica perché il tampone salivare è una sorta di lecca-lecca, praticamente basta aprirlo, ho adesso la mascherina, basta metterlo in bocca, strisciarlo sulla lingua, tra i denti, nella guancia, tenerlo un minuto e dopo il minuto si rimette nella sua provetta. Qual è il vantaggio a un'affidabilità del 98%? Capite bene qual è il vantaggio che è meno invasivo, quindi lo utilizzeremo soprattutto negli screening dei pazienti ricoverati, indicato quindi per i bambini, indicato per i disabili, indicato per gli anziani, indicato per quei lavoratori che devono sottoporsi a screening ripetutamente. Grazie.